Questo chiaramente rappresenta un problema che torna in auge proprio nell'avvicinarsi dell'estate e la movita che riprende il suo cammino con tantissimi giovani qui a Fano e quindi ritorna il tema della sicurezza di cui bisogna sicuramente parlarne in modo anche concreto. Io faccio due appelli, uno lo faccio al prefetto, mi sembra che questo prefetto sia una persona molto sensibile a questi temi, molto attenta al territorio. Sappiamo che purtroppo le nostre forze dell'ordine soffrono grandemente della mancanza di personale, Fano non è esente da questo e quando si parla di sicurezza e per parlare di sicurezza abbiamo bisogno di personale, delle forze dell'ordine e di pattuglie che girano, senza esse la sicurezza non c'è. Quindi chiedo al prefetto di farsi portavoce a Roma, di chiedere più personale per Fano in modo da poter controllare questa città, in modo da poter arginare questi fatti perché Fano è una città tranquilla e vuole rimanere tranquilla. Un altro appello lo faccio anche al sindaco perché anche la polizia locale, oltre ai controlli che devono fare loro nei locali per quello che riguarda le bevande alcoliche e quant'altro, le autorizzazioni e quant'altro e l'utilizzo della polizia locale anche di notte, almeno ai fini settimana. A noi non basta che si determini la notte come servizio fino a luna perché sappiamo benissimo che la movita è tutta la notte e i problemi poi iniziano in genere quando sono le 5 del mattino. Per cui anche la collaborazione della polizia locale con le forze dell'ordine sarebbe davvero un valore aggiunto molto apprezzato e che potrebbe rendere più sicura la nostra città. Quindi io mi ripeto nel proporre un tavolo per l'ordine e la sicurezza locale che non si sostituisca a quello del prefetto ma che sia un tavolo comunale dove le forze dell'ordine si parlano, dove le forze dell'ordine possano decidere in che modo poter rendere più sicuro il territorio e più sicura la città anche in vista dell'estate in modo che certi fatti non accadano più.